You are very welcome to our YouTube channel of Camerata Mandalino Classico, a channel for lovers of baroque and classical music, on YouTube. Benvenuti al nostro canale della musica ed animazioni. Vorremmo presentare musica di Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven e musica francese dal Settecento. Ciao a tutti. Hello, everybody. Buon ascolto. Please enjoy. Signore e signori. Vorremmo suonare un bellissimo movimento, l'andante dal famoso concerto con molti strumenti, che il prete rosso, Don Antonio Vivaldi, ha scritto per la grandi festa all'ospedale della Pietà, 21 marzo 1740, in onore per la visita del serenissimo Federico Cristiano. Principe reale, di Sassonia di Polonia. Quando l'orfane ha anche detto le putte del prete rosso, suonavano le musiche di Vivaldi alla festa, il principe ha apprezzato la rappresentazione, di altissimo livello, dal tutto il suo cuore. Dopo, il principe ha preso una bella nota, al suo diario. Vorremmo anche suonare un largo, molto affettuoso, in memoria del grande compositore Don Antonio Vivaldi, insieme con i nostri amici, dalla Svezia, e l'orchestra di loro, camerata mandolino classico, suoniamo l'allegro, dal concerto con molti strumenti, e la famosissima aria del grande maestro Johann Sebastian Bach. Speriamo la piace. 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 Grazie, 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 no, grazie. Grazie a tutti. In un orrevolmente festeggiamento, allo spirale della pietà, stasera. Venezia nel maggio 1740. L'hai sentito? Il maestro di balli. Lo farà lasciare Venezia per Vienna? Sì, è così triste. Che il nostro amico Don Antonio, presto lo farà trasferirsi da Venezia. Sì, mi mancherà così tanto, quando se ne andrà dalla nostra terra di Venezia. Spero che non sarà l'ultimo viaggio per lui. Maestro Vivaldi, siete pronto a partire? Sì, lo so. Finalmente, dopo tre settimane di viaggio, siamo arrivati a Vienna, oggi. La prossima settimana, visiterò la corte degli Asvolgo, e il mio protettore, Carlo del Sesto. Spero, di avere una reale possibilità, in quel momento, di essere nominato, direttore dell'orchestra di corte a Vienna. Spero che non mi venga negata, un'udienza, con il duca, Antonin Rischi di Meilingen. Voglio davvero discutere con lui, del nuovo progetto d'opera. Oggi, il 27 luglio 1741, ho un terribile mal di pancia. Spero di non morire. Oggi, il 27 luglio 1741, ho un terribile mal di pancia. Il concerto di gala, l'elaborato programma festivo, intitolato Ladria Festosa. Il concerto, che è l'ospedale della Pietà di Venezia. Tenutosi il 21 marzo 1740, è stato un evento musicale speciale, un concerto di gala, in onore della visita, del principe e lettore Sassone. Federico Cristiano, della Sassonia della Polonia. Concerts for many instruments, played by the daughters, of the Pio Ospedale, della Pietà, next is Royal Highness, the Serenissimo, Frederick Christian, Royal Prince of Poland, and Electoral of Saxony. Music by Don Antonio Vivaldi, concertmaster, of the aforementioned hospital, in Venice in the year 1740. Danke für ein exzellentes Konzert. Die Aufführung der Kantate, die ausdrücklich für mich geschrieben wurde, war sehr erfolgreich, aber es waren die Musikinstrumente, die wirklich ausgezeichnet und viel seltener waren, weil sie alle von Frauen gespielt wurden. Ohne einen einzigen Mann, der ihr Krankenhaus berühmt macht. Lei eroglobi,lagto Safonyi, berühmt macht. Theублиap The Machine Li principles Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In paradisum deducan te angeli, in coadventus uscipian te martires, e perducan te in civitatem sanctamierusalem. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.